Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 16 ottobre 2017 e io sono Roberto Giacchetti, sono in studio per fare Ore 9, che ovviamente come assolutamente scontato è dedicata alla lettura dei giornali e i giornali come altrettanto scontato dedicano sostanzialmente tutti le prime pagine ai risultati austriaci, a quello che è successo in Austria, anche se in realtà le notizie politiche estere oggi sono importanti non solo per quanto riguarda l'Austria, come sapete in Somalia vi sono stati degli attacchi terroristici due di seguito che hanno procurato oltre 200 morti in un solo giorno, se ne parla su i principali giornali, in particolare su Repubblica e sulla stampa, ma c'è anche la questione di Iraq che dovrebbe essere definitivamente liberata, ma con l'incognita dei foreign fighters che potrebbero ulteriormente scappare e venire in Europa e ne parla in particolare Repubblica, ma c'è anche questo su gran parte dei giornali. C'è il tema dei rapporti tra l'Iran e gli USA, gli Stati Uniti, con un confronto acceso tra il Presidente americano Trump e il Segretario di Stato che invece è favorevole all'accordo con l'Iran sul nucleare, vedremo anche questo e ovviamente poi c'è il tema della Catalogna, oggi è il giorno, diciamo si dice sempre così, più importante perché è quello nel quale bisognerà capire se effettivamente questa dichiarazione di dipendenza è formale o meno in relazione a questo quello che succederà, in particolare su questo segnalo l'editoriale sul foglio del direttore Cerasa dai vaccini alla Catalogna perché le democrazie sono vittime del proprio successo e c'è tutto ovviamente un'analisi che riguarda a partire dalla Catalogna il tema delle democrazie in particolare in Europa, ma ovviamente la politica interna si intreccia in particolare sui temi della legge elettorale, della legge Rosato 2.0 come viene chiamata, quella che ora sta al Senato, alcuni giornali descrivono i rischi per quanto riguarda i numeri, ci sono ovviamente già i primi sondaggi che forse sono anche un po' azzardati nel quale si fa una valutazione dei voti in ragione della legge elettorale di come questi verrebbero ridistribuiti, poi ci sono i partiti, anche nei partiti ovviamente il tema della legge elettorale è particolarmente acceso e non solo, ci dedicheremo ovviamente in particolare al Partito Democratico, ma poi c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle che da una parte con una lettera di Di Maio contesta la legge elettorale, dall'altra con un'intervista al candidato cancelleri in Sicilia, sembra annunciare una inversione diretta di rotta strategia del Movimento 5 Stelle con la possibilità di fare alleanze per governare la Sicilia qualora vincesse le elezioni, c'è il centrodestra con un'intervista a Salvini sul Corriere della sera con Berlusconi che straparla da Ischia dove stava e ovviamente temi più legati al referendum regionale, Toti sul Libera in prima pagina. C'è la legge di bilancio che è un argomento fondamentale che dovremo sicuramente affrontare anche nei prossimi giorni, ci sono le prime notizie che emergono, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare la legge di bilancio, vedremo degli articoli sulla Repubblica, sulla stampa, sul Messaggero, sul giornale e anche sul Mattino. Per quanto riguarda l'Italia mi pare che ci sia solo sul Corriere della Sera un'attenzione particolare su quelli che potrebbero essere gli sviluppi della vendita e poi segnalo invece sempre dal Corriere della Sera per quanto riguarda la questione migranti, ovviamente in tutti gli articoli di politica si parla dell'ipotesi di voto, di fiducia sullo Iussoli dopo la manovra economica e vecendo, ma invece vi segnalo in particolare dal Corriere della Sera a pagina 21 una inchiesta di Buccini molto interessante sugli immigrati invisibili, cioè gli immigrati che in realtà sono clandestini formalmente ma già lavorano nel nostro paese e poi una intervista al Commissario Avramopoulos sul Messaggero a pagina 5. Bene, vediamo allora rapidamente gli articoli, io direi di toglierci subito il tema della legge elettorale così andiamo avanti, su Repubblica pagina 9, Rosatellum al Senato la fiducia sul filo, servono 12 aiutanti dell'opposizione senza MDP, numero legale a rischio, Speranza Renzi traditori noi, tu specchiati, che detto da Speranza indubbiamente è qualcosa che deve essere abituato a fare. Qui c'è tutta ovviamente l'analisi dei numeri e di quelli che possono essere i rischi del voto al Senato, vedremo che cosa succederà. Ma sempre per rimanere sul tema della legge elettorale, in prima pagina su Repubblica ci sta un articolo di Ilvo Diamanti, il voto ai partiti, Movimento 5 Stelle, PD, Stabili, Lega e Forza Italia insieme superano il 34%, ci sono ampi articoli per chi fosse interessato a pagina 6 e 7 che con tutti i dati del sondaggio, ora ovviamente il tema di tenere insieme al 34% forze che si prendano a schiaffi dalla mattina alla sera sarà difficile, lo vedremo anche nella rassegna stampa di oggi, posizioni diverse praticamente su tutti, però comunque così viene aggregato il sondaggio da parte di Diamanti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia salgono al 34%, il PD al 26%, referendum l'autonomia fa presa nel sondaggio Demos, il Movimento 5 Stelle è il primo partito, le sigle a sinistra dei democratici valgono 8 punti ma non possono essere inseriti in una coalizione. Ripeto, è un sondaggio, ne abbiamo visti parecchi, abbiamo visto anche come i sondaggi cambiano nel tempo e soprattutto come per fortuna i numeri poi sono in grado anche di cambiare i sondaggi, ma analizzando sempre le questioni dei numeri c'è da segnalare sul giornale Mannheimer a pagina 8, i cespugli rossi non fioriscono, insieme non arrivano al 6,5%, MDP, Sinistra Italiana e Pisapia hanno un mercato potenziale vicino al 20%, ma se restano separati rischiano il flop. Questo è Renato Mannheimer che analizza sulla base dei dati che ha ovviamente ciò che accade a sinistra. Da ultimo voglio segnalare sempre per quanto riguarda il tema della legge elettorale e delle conseguenze secondo alcuni di questa legge elettorale, da Limonte a pagina 7 di Libero, larga intese inevitabili ma servono Lega ed MDP, i nemici di Berlusconi si intiferanno Forza Italia, il carroggio si sente forte e pensa di strappare agli azzurri gran parte dei seggi al nord. Questo è da Limonte che per l'appunto analizza in questo modo la legge elettorale. Vedremo peraltro come si chiuderà la legge elettorale al Senato, ma io penso che avremo tutto il tempo di parlarne, di spiegarla come è anche doveroso perché è un sistema nuovo con il quale i cittadini dovranno andare a votare. Vorrei ricordare a tutti, ma molto pagatamente, molto tranquillamente, a tutti quelli che vedremo anche all'interno del PD si lamentano, dicendo che l'alternativa al Rosatellum non era il Mattarellum o la panacea di tutti i mali, era una legge elettorale molto peggiore di questa, totalmente proporzionale senza nessun correttivo maggioritario e per di più assolutamente disomogenea tra Camera e Senato, senza considerare che era oltretutto la fotografia plastica della umiliazione del Parlamento perché non era una legge fatta dal Parlamento, ma era una legge derivante, come a tutti noto, dalle sentenze della Corte Costituzionale. Quando sento parlare di legge che non piace, legge che non darà la governabilità e vi dicendo, mi piacerebbe anche che tutti questi illustri analisti ragionassero sul fatto che l'alternativa a questa legge, visti i numeri e vista la condizione anche del passato con la quale ci siamo misurati con la legge elettorale, il Tedeskellum, ricorderete perfettamente come è finito. L'alternativa a questo non era una magica legge straordinaria, bellissima e soddisfacente in tutte le esigenze della democrazia italiana, ma era una legge decisamente peggiore. Bene, allora vediamo subito perché di Mancisti giustamente ce ne sono molti, uno è un mio caro amico che si chiama Arturo Parisi che giustamente avrebbe voluto una legge più maggioritaria, piccolo particolare che per fare una legge come è noto ci vogliono i numeri, così come per fare gli alberi, ve la ricordate, ci vuole il seme, per fare una legge ci vogliono i numeri, i numeri purtroppo per fare una legge migliore non c'erano. Arturo Parisi, il padre dell'Ulivo, a pagina 9 di Repubblica, il centro-sinistra è superato, anche Veltroni sbagliò, le virgolettate del titolo, triste per dove è finito il PD, ma testardamente lo voterò contro alleanze anomale. Tra l'altro Giovanna Casadio gli chiede lei ha portato la sua tenda come prodi lontano dal PD? Risponde Parisi, di prodi so solo che la sua tenda è, come ha detto, arrotolata nello zaino come chi si sente in marcia, lungo lo stesso sentiero che dall'Ulivo ci portò al PD come avanguardia di tutto il campo centro-sinistra dentro una nitida competizione col centro-destra per il governo. Di me posso solo ripetere che per la nostra democrazia il PD è una cosa troppo importante perché lo si possa lasciare solo nelle mani dei dirigenti di turno. Si chiamino Veltroni, Bersani o Renzi che scelsi sperando che mettesse la sua nuova novità al servizio del paese. Così Arturo Parisi. Sul Corriere della Sera invece abbiamo a pagina 9. Il Corriere della Sera si dedica in particolare in questo giorno, ma sappiamo che non è solo un fatto di questo giorno, di creare un contesto nel quale descrive il PD ormai come una specie di cadavere che gira per il paese. Per fortuna è successo anche altre volte e i risultati elettorali si sono fatti carico di ridisegnare la figura che alcuni giornali vogliono dare al PD. Comunque le due pagine che il Corriere della Sera dedica al PD sono la pagina 8 e la pagina 9. La pagina 8 porta il titolo La minoranza PD riapre il fronte con Renzi, i veleni dopo l'esclusione dalla festa, vedremo come andrà in Sicilia, Sala non sarà facile che diventi Premier, non mi risultava peraltro che Sala facesse parte della minoranza del PD. E sotto un'intervista di Monica Guersoni a Michele Emiliano, accordi sulle liste? Matteo non ci irriti o saranno problemi? Emiliano dica che vuole governare con Forza Italia. Questo per descrivere il PD nella sua composizione interna e poi invece per dare un ulteriore elemento di positività alla storia del PD c'è la pagina 9 con il titolo Storia di un partito senza ricambio, cosa resta dell'album di Famiglia Dem, da Franceschini a Veltroni si fa prima dire chi è rimasto e i nuovi non avanzano. C'è la fotografia di tutte le diverse occasioni delle primarie con i diversi rappresentanti, diciamo con i candidati alle primarie negli anni del Partito Democratico. Questo è il Corriere della Sera, ovviamente diciamo normalmente per quel che ne so e che per quel che è sempre stato i partiti sono quello che vive nel momento in cui esercitano azione politica, si presentano le elezioni, raccolgono il consenso di volta in volta e non è stato solo nel PD, succede che qualcuno se ne vada, ma tra quelli che se ne vanno e quelli che restano ci sta sicuramente qualcuno che è figlio di questa comunità ed è la parte più importante e sono gli straordinari militanti iscritti, coloro che tutte le mattine lavorano a loro modo e con le loro disponibilità per la vita del Partito Democratico, a prescindere da chi sono i dirigenti che sono oggi o erano ieri sul palco o sono scesi dal palco. Questo lo si dimentica sempre, si mette in ombra una straordinaria comunità fatta di centinaia di migliaia, milioni di persone che credono in questo progetto politico e troppo spesso tutto viene relegato esclusivamente a se un pezzo di cedo politico più o meno largo se ne va. Ma così è. Comunque questo è il Corriere della Sera. C'è anche il messaggero da segnalare in due, anzi no in due, in una pagina che è la pagina 8, il titolo è il nuovo centrosinistra, la coalizione del PD non decolla, Renzi prima il programma, calenda si sfila e avverte, pericolo a mucchiate senza obiettivo, i dubbi di Pisa Pia Alfano domani alvia il treno del segretario e qui diciamo si mette in evidenza e si ricorda che domani prenderà l'iniziativa che ovviamente avremo modo di spiegarvi molto bene nelle prossime ore l'iniziativa del treno con il quale Matteo Renzi girerà praticamente tutta Italia per raccontare quello che è il Partito Democratico e soprattutto quelle che sono le priorità e le idee per il futuro del Partito Democratico. Ma a chiusura degli articoli del PD perderò un po' di tempo ma penso che ne valga la pena, voglio interamente leggervi invece cosa dice un analista politico che si chiama Mauro Calise sul mattino in prima pagina al titolo Se l'ultimo partito resta il PD. Scrive Calise se la politica fosse celebrata e inversi andrebbero ai fondatori del PD quelli epici di Costantino Cavafis, onore a quanti in vita si ersero a difesa di Termopili perché agli occhi della grande storia passeranno come generosi fondatori dell'ultimo partito, l'ultimo baguardo eletto dalla politica novocentesca contro la disgregazione delle masse e la deriva personalistica che ormai attaragna ogni mondo vitale, non soltanto in Italia, in tutto l'Occidente. Le cronache di questi giorni fanno le pulci e i traguardi raggiunti sempre al di sotto delle aspettative, ricorda bene Calise, che prosegue. Misurano i risultati col metro impietoso delle promesse e contano il bottino dei consensi con un pallottoriere elettorale che non promette niente di buono, nulla purtroppo da eccepire, il PD non è diventato il baricentro maggioritario della politica italiana come sognavano Veltroni e Prodi e come aveva cercato di rilanciare Matteo Renzi e non lo diventerà, dando fiato all'autolesionismo che, tra i caratteri originali degli italiani, continua ad essere il più gettonato, si possono individuare uno ad uno i responsabili del fallimento, pizzicandoli nell'entourage prediletto della denuncia iconoclasta, la casta, l'oligarchia, il cerchio magico, basta che abbiano un nome e cognome che li renda visibili e appetibili e ovviamente esecrabili. Ma se si prova a scavare più a fondo nelle correnti del nuovo millennio che hanno messo a soccuadro tutti, ripeto, tutti i sistemi politici, il PD riprende quota e grandezza, appare con tutti i suoi limiti il tentativo lungimirante di costruire una corazza collettiva intrisa di programmi e valori, proprio mentre montava lo tsunami dell'individualismo qualunquista, populista o, nell'ipotesi migliore, assenteista. Il demone che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca, a modi al governo dell'India, ha incastrato Cameron nel trappolone della Brexit, sta mettendo alle corde la Merkel e rischia di riportare la Spagna sull'orlo della guerra civile. Con l'unica eccezione della Francia, dove un rigurgito tecnocratico ha inventato un demiurgo capace di domare per il momento le forze antisistema. Questo è il panorama all'orizzonte ed è questo, se ce n'è uno, il metro storico e comparato col quale valutare se davvero il PD è stato solo una successione di errori, una gara a chi sbagliava più forte. Non si tratta di sollevare i dirigenti dalle loro responsabilità e certo bisognerà continuare ad augurarsi che nell'immediato futuro si riesca a recuperare meglio un patrimonio fondativo che è stato stupidamente mistrattato. Ma per capire le difficoltà dell'impresa e, al tempo stesso, la sua preziosa necessità, occorre avere la consapevolezza di ciò che sta succedendo intorno, dalla violenza del vento contrario per chi provi a rifondare un partito nell'era in cui tutti i partiti se ne stanno venendo a pezzi. Per di più, proprio nel paese che è stato il laboratorio, la culla e poi il ceppo della contaminazione, del virus e del partito personale, l'unica forma di partito che continua a proliferare ormai in tutto l'Occidente e anche oltre. Un partito che nasce e si sviluppa intorno a un leader, suo padre padrone, che si tratti di mezzi finanziari per Apple e carismatico o congegni organizzativi o una più o meno scura combinazione di tutti e tre questi ingredienti, tutti i partiti che abbiamo avuto in Italia nell'arco degli ultimi vent'anni rispondono a questa formula. Una formula che ha rapidamente attecchito ben al di là dei patri confini, per la semplice e micidiale ragione che coniuga al meglio i due fattori che incarnano il nostro tempo politico, la ribellione anti-elite delle masse e il tentativo dei capi e capetti di cavalcarne spregiudicatamente gli umori. Per questi trend strutturali che non accennano ad esaurirsi, il PD è destinato a restare l'ultimo partito fondato sulle basi con le procedure che hanno alimentato il governo democratico nel XX secolo. Non ci saranno riedizioni e tantomeno microclonazioni, ci si può solo augurare che resista ad architrave della democrazia italiana. Questa è per fortuna una lettura a mio avviso più realistica e anche un pochino più felice di quelle che piace tanto ai giornalitari del PD. Andiamo adesso rapidamente perché stiamo avvicinandoci alla fine del tempo a noi assegnato. Movimento 5 Stelle, allora dicevo, c'è la lettera di Di Maio sul Corriere della Sera, lettera di Di Maio, Di Maio ha l'appello antiriforma, così l'elettore Movimento 5 Stelle vale meno, il leader Movimento 5 Stelle nella quota proporzionale è una violazione della carta. Ora ovviamente non ho il tempo di leggere la lettera, vorrei semplicemente dire, ma veramente, molto semplicemente, molto umilmente che il Movimento 5 Stelle che continua a criticare questa legge, che è una legge contro di noi, eccetera, eccetera, anch'esso ha la memoria corta perché c'era una legge che avevamo fatto tutti insieme, a me piaceva molto meno di questa, ma comunque era dentro un accordo che era stato fatto con i 5 Stelle, con Berlusconi, con la Lega, che allora non puzzavano, adesso puzzano quando erano con loro a fare l'accordo, non puzzavano, con il PD e che quell'accordo per una legge che loro dichiaravano la più costituzionale del mondo, quella che gli piaceva e vi dicendo, non è che l'abbiamo affossata noi o l'ha affossata Forza Italia o l'ha affossata Salvini, l'hanno affossata loro, nel voto segreto hanno votato contro un emendamento che ha fatto saltare completamente l'accordo, quindi purtroppo, diciamo, adesso è quello che c'è. Stampa, sempre sul tema del Movimento 5 Stelle, come vi avevo detto, il titolo in prima pagina, Movimento 5 Stelle, chiedo scusa, stiamo arrivati ad ottobre, Movimento 5 Stelle in cerca di alleanze per governare la Sicilia, cancelleri, nelle altre liste persone per bene, l'ultima svolta del Movimento di Grillo, è un articolo che riprende poi a pagina 5, le parole di cancelleri, Musumecio stagio di una banda, sarà il crocetta del centro-destra, ma dice cancelleri, aperti al confronto con altre liste, ci sono persone per bene che si stanno avvicinando. dall'intervista di Federico Capurzo al candidato del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Segnalo ancora invece sul giornale, a pagina 2, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, a pagina 12, non a pagina 2, spero che sia così, ecco qui, i guai del Movimento 5 Stelle, un articolo di Stefano Sansonetti, tra i francescani grillini spunta il milionario socio d'oro di Casaleggio, l'eurodeputato e imprenditore veneto Borrelli ha le chiavi di Rousseau e vola con i fatturati. David Borrelli, eletto al Parlamento Europeo alle elezioni del 2014, è nato a Treviso, nel 2011 apre un'azienda specializzata in servizi informatici dove ha svolto compiti di direzione generale e questo è il quadro, per chi se lo volesse leggere, è l'articolo sui 5 Stelle che abbiamo sul giornale. C'è anche il centro-destra, certo che c'è anche il centro-destra e nel centro-destra come poteva mancare Salvini e la sua intervista quotidiana, questa volta la troviamo sul Corriere della Sera a pagina 11, Forza Italia sbaglia a preoccuparsi di collegi e se domenica va bene subito altri referendum. Salvini in questi giorni da Berlusconi sento cose strane, è una lunga intervista e sotto a questa intervista ce n'è anche una a Brunetta che invece dice vinceremo anche con il voto utile, Silvio ha ragione ad alzare la posta, l'argentese senza maggioranza deciderà la classe politica, è un'intervista al capogruppo di Forza Italia alla Camera, ma sempre sul centro-destra anche in questo caso abbiamo la stampa in prima pagina, ci stanno da segnalare un articolo di Giovanni Orzina, Berlusconi il ritorno del Rottamato sulla prima pagina e poi continua a pagina 23 e sempre sulla stampa, segnalo a pagina 4, un retroscena di Amedeo la mattina, Berlusconi faremo cappotto nei collegi in Veneto e in Sicilia, Silvio festeggia con i suoi il Rosatellum, sarà l'ultima mia battaglia, così sulla stampa. Passiamo adesso alla legge di bilancio, mi pare che l'articolo non solo più interessante ma anche più dettagliato siano su stampa e Repubblica, su Repubblica lo troviamo però nelle pagine lontane dalla prima, in particolare pagina 16, il titolo è Una manovrina, solo 4 dei 20 miliardi della finanziaria dedicati a misure procrescita, sterilizzazione dell'IVA e rinnovo del contratto degli statali, gli interventi più pesanti, si dice 338 milioni gli incentivi, ma si dimezzano i costi per chi assume Under 29, 600 milioni dedicati alla povertà, 2 miliardi per il pubblico impiego, 300 milioni per l'industria, questo è quello che dice Repubblica, ma sulla stampa ci sono invece due pagine e il taglio anche in questo caso è diverso, prima si dà notizia in un retroscena di Fabio Martini che il titolo è Gentiloni, una manovra limitata ma giusta, fondi per giovani e poveri, borse, risorse anche agli statali, non si taglieranno i super ticket e poi c'è una descrizione di quello che accade a pagina 7, via un'operazione da 20 miliardi, scende a 14,7 la somma effettiva da trovare con l'eliminazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA, il governo cerca nelle pieghe del bilancio un mini tesoretto da destinare alle nuove misure sociali, ci saranno gli sgravi contributivi, sconto sugli assunti a tempo indeterminato, ci saranno un intervento sulle fasce disagiate, il reddito di inclusione parte con 600 milioni, l'eco bonus e il beneficio c'è però è ridotto dal 65 al 50%, il rapporto tra lo Stato e le aziende, alla scuola e alle imprese andranno più soldi, il bonus cultura rinnovato a 500 euro ai 18 anni, la web tax e fatture, una spinta a pagamenti elettronici e poi sotto ci sta un articolo di Francesco Semprini che riporta le dichiarazioni di Visco, avanti con il calo del debito, non bisogna far deragliare la ripresa, così sulla stampa a pagina 6 c'è anche il messaggero che si occupa della manovra, ovviamente un po' tutti i giornali, visto che oggi si unisce il Consiglio dei Ministri per questo, oggi la manovra, giovani taglio del cuneo fino a 34 anni nel 2018, pensioni si tratta sull'età e poi c'è il tema che riguarda i negozianti, sì al posto obbligatorio ma le commissioni devono scendere così sul messaggero, ancora il giornale si occupa della manovra, ovviamente con toni certamente non positivi ed è un contraltare a quello che leggevamo sul messaggero, cioè un'accusa al fatto che c'è l'obbligo di Bancomat nella finanziaria, obbligo di Bancomat per tutti, in prima pagina scrive il giornale, l'esecutivo pensa di imporre i pagamenti elettronici anche per un caffè, vogliono far sparire il contante, è un articolo di Carlo Lottieri che è quello che diciamo un po' serve a far sparire anche un po' di evasione fiscale, è quello che accade peraltro in tanti paesi non solo europei ma anche del mondo, segnalo allora come ultime cose su Alitalia un articolo del Corriere della Sera, pagina 6, Alitalia il piano Lufthansa 500 milioni e 6 mila tagli, oggi le offerte ai commissari per rilevare la compagnia, si dice che al 28 febbraio scorso Alitalia aveva 11.893 dipendenti, di questi circa 6 mila sono addetti alle attività di terra e si fa riferimento e si ricostruisce in questo articolo di Leonard Barberi che cosa è accaduto all'Italia e soprattutto che cosa potrebbe accadere. Da ultimo come vi dicevo e come vi segnalavo tema immigrazione, vale la pena di segnalare davvero dal Corriere della Sera a pagina 21 Goffredo Buccini i 500 mila invisibili nelle periferite italiane, tra immigrati irregolari anche in venti nella stessa casa e boss di Borgata i primi dati della commissione d'inchiesta solo a Roma, 99 palazzi abusivi in mano al racket. È davvero una bella inchiesta di Buccini che vale la pena di essere letta e da ultimo come vi dicevo l'intervista alla pagina 5 del messaggero al commissario Dimitris Avramopoulos, migranti, l'Italia rispetta diritti umani e regole UE, il commissario europeo, nessuno dei salvati in mare è stato riportato in Libia, Miniti fa un lavoro gigantesco, i campi sono responsabilità dei libici, così sul messaggero. Con questo abbiamo concluso questa nostra rassegna stampa, ovviamente ci saranno poi tutti gli appuntamenti della giornata con il Partito Democratico, con Democratica che riceverete via elettronica, con la terrazza del PD, soprattutto ci sarà occasione di poter parlare delle cose che ci sono oggi sui giornali, io vi lascio semplicemente dicendo a tutti che se qualcuno ogni tanto si rattrista e si frustra perché sente notizie su sondaggi, su giudizi, sul Partito Democratico, io penso che noi dobbiamo fare soltanto una cosa nei prossimi mesi, lavorare perché la forza, il consenso intorno al Partito Democratico cresca, guardate possiamo fare tutte le leggi elettorali del mondo, le elezioni si vincono, si governa soltanto se si prendono i voti, poi ci sono le leggi elettorali che possono tradurre questi voti in seggi, possono più o meno essere degli accorgimenti, ma il punto fondamentale per un partito politico è quello di mettere in campo una proposta politica credibile sulla quale raggiungere un consenso che sia maggioritario, io penso che ci siano tutte le condizioni per fare questo e penso che l'iniziativa che prende il segretario a partire da domani, che è quella del viaggio, di un viaggio con un treno in tutte le parti anche le più piccole d'Italia, per spiegare qual è la nostra idea per l'Italia, per il suo futuro, per le giovani generazioni, per le future generazioni, sia l'elemento fondante per la costruzione di quel consenso che non guardate i dati di oggi, vedremo i dati quando andremo a votare, per quel consenso che è indispensabile, per come avete sentito negli articoli che abbiamo letto oggi, il Partito Democratico possa e debba essere l'elemento della speranza e diciamo di tenuta democratica in questo Paese, sono sicuro che le prossime settimane, i prossimi mesi sarà un impegno di tutti, di tutti all'interno del Partito Democratico perché questo sia possibile. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti.